L'epidermide è la barriera protettiva più importante del corpo. Qui si trova il microbioma, un ecosistema in cui convivono le comunità di microorganismi che mantengono l'equilibrio naturale della pelle. Questo ecosistema subisce aggressioni quotidiane che deteriorano questo equilibrio, compromettendo la salute e la bellezza della nostra pelle. L'Endan ha creato Essential Reload, il primo trattamento professionale con principi attivi prebiotici che prepara, ripara e protegge la pelle. I principi attivi prebiotici di Essential Reload favoriscono la crescita dei microorganismi benefici che si trovano naturalmente nella pelle, riducendo così la possibilità di proliferazione di batteri nocivi in modo da restituire e mantenere l'equilibrio di cui la pelle ha bisogno. Il risultato è una flora microbica equilibrata, è una pelle pulita, sana e luminosa. Essential Reload, il rifornimento prebiotico che equilibra la pelle. Essential Reload, il rifornimento prebiotico che vivono in generale e